Ciao fragoline! Nuovo video! È un video un po' speciale, da come leggete dal titolo, praticamente è dietro le quinte di Fragoline86. Vi spiego cosa c'è dietro a ogni video, come mi organizzo dietro ogni video che faccio, i programmi che uso e praticamente tutto quello che c'è da sapere. Qualche consiglio per chi ha un canale ed è molto più piccolo di me e vuole imparare qualcosa in più. Volevo fare questo video appunto per anche aiutare un po' di voi, perché c'è molta gente che mi chiede, anche in privato specialmente, come edito i video, quanto ci metto, dietro cosa c'è, in senso come mi organizzo e tutto praticamente quello che c'è da sapere. Però, prima di iniziare questo video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina così non vi perdete, lasciarmi un like a questo video se vi piace e ovviamente seguitemi su Instagram che lì vi aspetto e vedete tutto quello che pubblico più lì che qua su Instagram. Allora, iniziamo a farvi vedere quello che ho comprato, perché io per organizzarmi sui video, in poche parole, uso queste... io uso questa agenda praticamente per scrivere i video in cui dovrebbero uscire, in quale giorno e ovviamente... sì, di più in quale giorno, perché l'ora la vediamo un po' più avanti. Comunque, questa è l'agenda nuova che ho comprato, che ormai inizia dal primo di settembre fino agosto dell'anno prossimo, perché è quella che ho io, che è questa, in poche parole, infatti cambia, cambia il colore ma cambia praticamente tutto, perché questa qui è fino il primo... adesso vi faccio vedere, comunque... allora qua c'ho la mia matita e qui è fino al 5 di domenica, il 5 di domenica, per cui calcolate che io per sapere quale video dovrebbero uscire sul mio canale e li scrivo sull'agenda e dato che questa agenda finisce qua, ne ho preso un'altra. Allora, questa l'ho presa su Amazon, di solito queste si trovano su Amazon, sono migliori queste perché uno puoi scrivere tutto quello che vuoi, calcolate che ci sono... è bellissima perché queste agende sono troppo belle e sono fatte così, calcolate che dietro... l'ultime pagine sono con gli adesivi, questi sono tutti gli adesivi in poche parole, dove ce ne sono tantissime e a me piacciono un casino gli adesivi, ma poi anche come è fatta l'agenda perché praticamente c'è il giorno e puoi scrivere in poche parole tutto in queste righe, è semplicissimo. Allora, per farvi capire, vi faccio un esempio, voi questo video lo vedete a settembre, per cui posso farvi vedere in poche parole quello che ho scritto fino al 4 di settembre perché l'ultimo video che metterò è il 31 di agosto, infatti qua ho scritto il video che uscirà che è il Grattevinci, quello che avete già visto, 7 e mezzo turista per 10 anni. Io scrivo il titolo del video sull'agenda, come vedete, tipo questo, perché così almeno so che martedì uscirà quel video, so che il giorno martedì, ovviamente li scrivo molto prima, una settimana prima o anche quattro giorni prima, perché so che martedì 31 devo mettere il Grattevinci. Io mi organizzo così perché è più semplice, così almeno sai quale video devi fare, quale video in poche parole usciranno sul canale, eccetera. Per cui, questa è l'agenda vecchia. Queste agende piccoline costano, in poche parole, 16,95€, li trovate anche a 20€, infatti io l'ho presa direttamente al negozio dove vendono i libri, che è aggiunti, come si chiama, aggiunti al punto e l'ho pagata 16,95€. Volevo prenderla su Amazon, ma ora che mi arrivava ci volevo un bel po', per cui alla fine ho deciso di prenderla. Cambia la scritta, infatti questa è Ridi, sorridi e festeggia, diario 2021 e 2022. Sono troppo belle queste agende, io ve le consiglio perché io mi sto provando bene e ripeto, ha tantissimi adesivi dove voi potete attaccarli ovunque. infatti qua ce ne sono tanti, molto di più dell'altro. Poi vabbè, qui scrivete il nome, il cognome, iniziate anche a compilare questa agenda, questo diario ed è molto carino perché appunto qua inizia dal 30 lunedì di agosto. io da praticamente da martedì, no martedì, no in teoria no, perché ho già programmato il video, calcolate che dovrei iniziare da giovedì 2 settembre a pubblicare il video, in poche parole, perché per due settimane, come avete visto, il canale non sono usciti i video. Per cui, questa è l'agendina e c'è di tutto e di più, cioè puoi completare tutte le pagine, è troppo carina. Io ve la consiglio se volete organizzarvi non solo su YouTube per fare video, ma anche se dovete andare a scuola o dovete fare qualcosa, fare la spesa eccetera. secondo me è ottima, perché così o meno sapete che il 31 martedì, ad esempio, io so che devo fare uscire il video dei Grattevinci, che vabbè, adesso è già pubblico, per cui non ho problemi. Comunque, questa è quella nuova che adesso ovviamente inizierò piano piano a scrivere i video che dovrebbero uscire. e poi, questa quella vecchia, adesso vi faccio vedere, ad esempio, il video che non metterò, che non ho messo in agosto, praticamente partiva dal lunedì 23 fino a sabato 28. Infatti, come vedete, c'è scritto no video, per cui vuol dire che io non dovevo pubblicare il video in questi giorni. Vabbè, la mia scrittura ovviamente non è che sia tanto bella, perché io non sono tanto brava a scrivere, ma chi se ne frega, perché tanto questo video non è per vedere come scrivo. Comunque, vi spoilerò anche tutte le cose che ho fatto in agosto per farvi capire che io mettevo ogni giorno, cioè ogni giorno no, però ad esempio io pubblico il lunedì e il giovedì, allora so che lunedì, cioè martedì ho scritto che deve uscire i grattevinci e giovedì pure, però ovviamente sono grattevinci diversi. Credo che mi sono fatta capire, in poche parole, vi faccio vedere anche le altre agende vecchie, che sono queste, sono tutte diverse, però sono una più bella dell'altra. Ad esempio questa è Credici e sei già a metà strada, sono bellissime, solo che questa qua non è che mi piace tanto, perché l'ho preso una volta, ma alla fine poi l'ho lasciata, cioè ho preso solo questa e basta. Ma con queste mi trovo veramente bene, ad esempio questa è grande e c'è il reghello, c'era praticamente fatta così, infatti come vedete tutti, tutto quello che ho scritto sono i video che sono usciti nei giorni in cui io ovviamente pubblico. Sono bellissime, le trovate sia su Amazon che questa più grande l'ho pagata 20 euro, quelle più piccole, che sono queste qua che vi ho fatto vedere, praticamente 16 euro. Per cui io mi organizzo così, scrivo i giorni e i video quali devono uscire e il titolo, così almeno so già quando devo montare il video, so già il titolo e ovviamente quando devo pubblicarlo, in poche parole. Poi mi prendo appunti con questi qua, ma anche con quelli più grandi, che adesso tipo questi, io uso anche questi. Questi invece li uso per il titolo. All'inizio, quando devo, ho fatto già un video, già so che ad esempio questo video lo intitolo dietro le quinte di Fragolino86, in poche parole, per cui lo scrivo qua il titolo, perché così almeno lo so già e quando finisce di editare il video lo scrivo sul computer e poi dopo lo scrivo sul diario, in poche parole, però dipende, io mi organizzo così. Allora, calcolate che non faccio solo questo, ma se mi arrivano qualche idea, come ad esempio un video o un vlog, già i vlog sono diversi però, calcolate che io li scrivo tutti su dei fogli, ad esempio così. Questi sono tutti, cioè tutto questo che ho scritto dietro, tutti questi fogli qua, che non vi posso spoilerare niente, perché tutti questi fogli scritti sono praticamente i video che dovrebbero uscire in questi mesi e anche l'anno prossimo, perché non ce la farò a farli tutti praticamente quest'anno, ma dovrei farli anche l'anno prossimo. Per cui, vi spoiler che in tutti questi fogliettini c'è scritto tutti i video che dovrei fare. Io faccio così, se mi vengono idee in mente qualche video, giustamente li scrivo sul foglio, poi, quando registro il video, li metto il titolo qua nei fogliettini e poi dopo dico ok, il video è già montato, lo scrivo sul diario e sul diario so che quel giorno e a quell'ora il video, devo uscire in poche prove per farvi capire, ma credo che avete capito, perché io sto già andando in confusione e invece di corciare sto allungando. Comunque, questo è quello che faccio e io vi consiglio di fare anche voi così, se volete, se avete un canale, eccetera. Poi, vi consiglio anche di sapere i giorni e l'ora quando pubblicate un video su YouTube, perché cos'è meno le persone sanno che quel giorno e quell'ora esce il video sempre. Perché se uno mette un video spasso, ad esempio un giorno lo metto lunedì, un giorno lo metto lunedì, poi ricambio, poi lo rimetto lunedì, poi lo rimetto, che ne so, giovedì, secondo me le persone dopo un po' dicono che palle, ma io devo sapere quando escono i video, no? Per cui calcolate come se voi siete al lavoro, perché alla fine è un lavoro YouTube, specialmente a fare i video, dove voi dovete sapere l'ora e il giorno in cui deve uscire il video. Per cui, i miei giorni che escono i video e che io ho scelto sono martedì, giovedì e sabato, sono tre video. Potrei fare anche solo martedì e giovedì, ma dato che ho anche i vlog e a me piace fare i vlog, invece di metterli i vlog martedì e giovedì, preferirei metterli a sabato per farvi capire, in poche parole, li divido nei giorni. Il mio orario che ho deciso è le 14 del pomeriggio, oppure se non riesco a mettere il video, perché ho altre cose da fare e non sono riuscita a montarlo e registrarlo, lo metterò alla sera alle 8. Per cui io vi consiglio di segnarvi i giorni e l'ora in cui volete che esce il vostro video, perché così a me non è più ordinato e le persone sanno che a quell'ora e quel giorno escono i video. Secondo me è meglio così, poi uno può fare quello che vuole. Questa è la seconda cosa. La terza cosa, io monto con Filmora. Per il momento è l'unico programma in cui è a pagamento, però vabbè, io ho un codice gratis, che ovviamente non l'ho pagato, però Filmora è a pagamento, però vabbè, io ce l'ho gratis, grazie a un mio amico, perché devi avere un codice, in poche parole. Filmora è facilissimo da montare, ovviamente per quelli che da poco non sanno montare i video ci vuole tanto impegno, stare lì e vedere come si usa, eccetera. Io ormai è da più di 4 anni che ho questo programma, perché l'altro programma era i movie, mi sembra, adesso non mi ricordo, era un altro programma che però tagliava i video e basta. Invece con Filmora tagli, cioè vabbè, per chi mi segue e chi guarda i miei video sa come sono montati, per cui in poche parole ci sono anche le faccine, le scritte, robe varie. Allora, per montare un video calcolate che dipende quanto dura. Se dura 10 minuti io ci metto mezz'ora, perché è ora che lo tagli, ora che metti le scritte, ora che metti la sigla, ce ne vuole un po', per cui almeno una mezz'ora, solo 10 minuti di video. Se io invece faccio 20 minuti, 30 minuti, ci metto almeno 2 ore, 1 ora per montare un video di 20 e 30 minuti di video, per quello che io vi dico che preferisco che lo guardate tutto, perché ci metto tanto montarlo e anche l'impegno è tanto dietro, per cui preferirei che la persona guarda i miei video fino alla fine, non che prende, apre il video e dopo lo guarda per 2 minuti e poi lo chiude, per farvi capire. Per cui calcolate che il video va, quando lo avete montato, va anche convertito. Convertito ci vuole almeno più di 3-5 ore per convertire il video. Molti programmi lo fanno e c'è questo programma dove mettono insieme le clip e converti il video. E ci vuole, in poche parole, più di 5 ore solo per fare questa cosa qua. Per cui calcolate che almeno un giorno, solo per fare un video, ci vuole, perché ora che lo registri ci vuole almeno 10-20 minuti, ora che lo monti ci vuole anche il tempo. Per cui calcolate che solo per fare un video ci vuole un giorno. Poi dipende, se i video durano 5 minuti è normale che ci metti di meno. Cioè, comunque, appunto, dipende il video quanto dura. Nel mio caso i miei video durano di più perché a me piace registrare, piace farvi vedere molte cose, anche se parlo troppo. Comunque, in poche parole, questo è quello che succede dietro nei miei video e quanto ci metto. Diciamo che io registro con il cellulare, con l'iPhone 11 per il momento, ma sto vedendo una telecamera nuova da comprare, per cui vi spoilerò già anche questo. Dovrei riuscire a dicembre a comprare una fotocamera dove registra bene i video, così ho due cose. Ho la GoPro e ho il cellulare per il momento, però la GoPro è un po' scomoda se devi registrare. È meglio registrare con la GoPro quando sei in acqua o quando sei al mare, ma per registrare normalmente, come sto facendo adesso, calcolate che è un po' complicato per me. Comunque, io sto registrando col cellulare. Poi, ovviamente, avete bisogno dei cavalletti per sostenere il cellulare o la fotocamera e delle luci, praticamente, se la stanza è buia, ci vogliono le luci. Io adesso sto usando praticamente la luce naturale del sole, anche se sta andando via, per cui calcolate che adesso più o meno si vede bene. E invece, per la posizione di video, io sto usando la tenda del proiettore che ho, diciamo, appeso vicino al mio letto. Per cui, secondo me, questo è molto più comodo, perché dietro ha lo sfondo bianco ed è più bello. Poi, vabbè, certe volte nei video mi sposto ovunque, in cucina, in bagno, oppure anche in sala, per cui ogni video è molto diverso, dove praticamente è la posizione. Però, secondo me, così è ancora più bello. Per cui vi consiglio anche un green screen, qualcosa per dietro, così almeno si vede più bello. Vabbè, adesso io non ho una stanza dove posizionarmi bene, però, vabbè. Comunque, questo è quello che faccio dietro alle quinte, appunto, sul mio canale, in poche parole. E niente, credo che vi ho detto tutto, credo che avete capito. Volevo, diciamo, fare questo video, appunto, per darvi qualche consiglio, per chi è al canale e per chi vuole fare i video. E, ovviamente, anche per organizzarsi. Io mi organizzo così. Se ho dimenticato qualcosa, fatemelo sapere voi sotto in questo video. Il video è già durato fin troppo, anche perché io parlo sempre troppo, non la smetto mai. Però, detto questo, spero che il video sia stato utile. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. E mi raccomando, un bel pollice in su, mi impappino sempre. E, detto questo, mi raccomando, vi aspetto anche su Instagram. Ciao e al prossimo video.